Telecamere di sicurezza, una cucina per avviare l'ittiturismo e tante piccole accortezze per mantenere al fresco il pescato e venderlo lungo la battiglia su tradizionali carrettini. Sono i sogni della piccola marineria di Martinsicuro. Tramite finanziamenti FEP, Fondo Europeo per la Pesca, i marittimi sperano di apportare altre piccole migliorie al cosiddetto ecomostro. Non si tratta di migliorie architettoniche, ma di interventi utili a favorire lo sviluppo di un'attività oggi in recessione e profondamente messa in crisi dal crescente costo del gasolio. Così, attraverso un progetto in fase di redazione, i portuali chiederanno telecamere di sicurezza per controllare una zona ad alto rischio. La sicurezza è importantissima, specialmente perché i pescatori e noi mogli andiamo al mattino presto e per non trovare cattive sorprese avremo bisogno di questa sicurezza, dei cancelli soprattutto e delle telecamere. L'idea è quella di fornire a ciascun assegnatario di un garage interno al centro polifunzionale per il porto e la pesca una chiave per aprire il cancello d'accesso, in modo che resti sempre chiuso e monitorato da un impianto di videosorveglianza. Ma questi accorgimenti, atti a garantire la pulizia e la sicurezza del posto, potrebbero essere affiancati da azioni di promozione turistica e vendita del pescato. Il mare ci dà tante cose buone e molte volte non vengono apprezzate, almeno facendo questa cosa faremo conoscere a tutti i tipi di pesce, tante cose, perché loro chiedono solo sogliole, panocchie, ma ci hanno altri tipi di pesce che sono buonissimi e quindi vorremmo insegnare a prepararli, a pulirli, a cucinarli. Inoltre, gli stessi pescatori vorrebbero posizionare dei piccoli gazebo in riva al mare, sotto i quali vendere il pesce disposto in graziosi banchetti, con tendine e cassette colorate, a mo' dei vecchi carretti del gelato. Insomma, un porticciolo caratteristico e a vocazione marinara, lontano dai progetti vagliati in passato per la costruzione di un approdo.